Benvenuti a Columbus, Georgia. Sarò onesto, non c'è molto da fare qui. Columbus sta diventando una grande città. Gran parte della comunità è composta da soldati a causa di Fort Benning. Fort Benning è la più grande di fanteria in tutto il mondo. La fanteria Museo Nazionale è anche a Columbus. È veramente spettacolare! Dr. Pemberton, il fan dottore della Coca-Cola, è da Columbus. Columbus è anche la sede centrale di Aflac. Ora ci sono due centri commerciali. Un centro commerciale è pericoloso andare a notte. L'altro è bello. La più grande attrazione per i turisti è la nuova rafting lungo il fiume Ciarucci. La gente viene da tutto il paese ad affrontare l'acqua di vacci del fiume. Per mangiare ci sono in realtà molto ottimi ristoranti. C'è Country's Barbecue, il ristorante Epica, Hunter's Pulp e McDonald's. Ci sono molti posti in cui stare a Columbus. I posti migliori in cui soggiornare sono Hilton Garden, il Comfort Suites e il Candlewood Suites. Sono tutti belli posti. Columbus non è una città eccitante, ma è quello che si può chiamare casa. Grazie. Grazie.